Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fino Interdentale perché mi sono chiamato gli strufoloni, perché farò dei video con i miei amici di calcio e quindi già mi sono preparato gli strufoloni, però quando ci sarò solo io sono Fino Interdentale. Questo non è un cambio di nome, ma è semplicemente una cosa avvertita perché se no dite Filippo ti sei ricambiato il nome. Ragazzi, poi non chiudi il canale perché ho visto che comunque 14 views l'ha fatta e comunque ho capito che forse tutti ci tenete a questo canale, quindi niente. Ragazzi, io vi saluto e ciao.